sono forte allora facciamo così ci organizziamo la prossima volta giochiamo un pochino assieme e poi facciamo il duello finale della dual va bene va bene metteremo in palio qualcosa vabbè tutti mi dicono non farlo ragazzi sono forte la facciata di crede ma sono forte ragazzi mi che mi avete visto giocare ci costruisco da dio ma cosa dove cosa cosa buono 502 il peggior mouse della storia il famoso mouse ninja dove ci sono i bimbi di dieci anni che fanno ecco ha preso il mouse il vero mouse di ninja è questo che ha firmato da lui final però non si trovano giorgio non si trovano però no ma io non bocca così davanti a tutti perché poi ce l'ha anche io e tu adesso quelle mouse usi attualmente questo e quest'altro qua e magnesio di wifi così cioè un magnesio invece ma non aggiungono del di tei grazie a tutti